buongiorno da parigi ora ci stiamo dirigendo verso la metro per raggiungere la nostra nuova destinazione cioè disneyland quindi ora raggiungiamo la metro però prima di raggiungere la nostra destinazione ci fermiamo alla boulangerie a mangiarci due brioche due croissant allora siamo presi ho preso questo che ora lo mangeremo mentre siamo per strada direzione disneyland e ho preso un croissant e un pan de chocolat ora lì ve li mostro mentre li mangiamo questo è quello che abbiamo preso soffice allora questo è il pan de chocolat e ora lo assaggiamo buono e il costo è di 1,20 euro quindi una colazione abbastanza economica ora finiamo di fare colazione e intanto andiamo a prenderla a metro soffice 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 che c'è benvenuti a disneyland benvenuti Iscriviti al nostro canale Ora iniziamo a fare della pizza. E ora la baguette che ho preso al supermercato stamattina, buona rosetta e mostarda, non ci avevi dato solo un euro in realtà, buona, non me l'aspettavo. Ora finisco di mangiare e poi andiamo a fare degli altri giossi. E ora pranziamo un po'. Sono un po' cari ma va bene così. Buoni, belli burrosi. Belli formaggiosi. 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 Allora, per raggiungere il secondo parco dovete uscire e conservate il vostro biglietto d'entrata perché vi servirà per poter tornare dentro e ora noi ci dirigiamo al secondo parco. L'Hollywood Sour è abbastanza tosta perché è un saliscendi continuo che ha paura del vuoto e completamente al buio. Lei si è cagata sotto. Abbastanza. Cioè volevo che smettessero a un certo punto però per futuro ha finito. E adesso ci troviamo alla Marvel Campus, la nuova parte che è stata inaugurata qui a Disneyland Paris. Quindi ora facciamo un giro qui e ve lo facciamo vedere. Però prima ci riposiamo un attimo solo. Qui di fianco a quest'albero perché lei deve smettere di tremare. Sì. Bene così eh? Come senti? Vieni! Vieni! Allora diciamo che il giro della giosta di Spider-Man è carino. È stato divertente. Molto divertente. C'è da colpire dei ragnetti. Non è stato. E vi perdete. È interattivo. Però abbiamo aspettato anche lì. 50 minuti. No 20. No 50. Abbiamo aspettato anche lì 50 minuti. E ora torniamo al parco Disney a vedere il secondo spettacolo. E adesso prima di spostarci nell'altro parco ci siamo fermati qui per cenare. Con due chicken burger, due coca-cola e due patatine. Posto di 28 euro. 14 euro a meno. Quindi ora mangiamo. Popcorn recuperati e ora aspettiamo lo spettacolo. Popcorn recuperati e ora aspettiamo lo spettacolo. La magia ha già iniziato. La magia ha già iniziato. La magia ha già iniziato. Grazie! Grazie! Grazie!